Da una parte i campioni, dall'altra gli Eternals, una partita che per la squadra del Masseo e il suo nuovo allenatore può volere dire Finals o no? Anche io ho capito Finals. Grazie mille Pancio, è l'ultima partita di giornata dell'ultima giornata di questa GOT League, poi ci saranno ovviamente le Finals più avanti, Eternals, Redlock, una buona sera da Matoschi. Andrea, Hakimi, Tabrizzi e Saturni. Perfetto. Le tue squadre sono raffinati, mamma mia, che aggancio di telecamera qui. Passa direttamente lui. Citte, grande lettura, allora riparte, allarga per Lufaso, poi Elfiche, fronteggiato da Salvatore Federico e allora ripartono ancora con Filippi, gli Eternals. Salvatore Federico col pritacco illuminante per la Vopa. Bene, bene, bene. Chiamante. Attenzione. Se ha fatto male, mi sa che gli è andato... Se ha fatto male, Ista Keeper. Calcio d'angolo, la pirata Vito alla Vopa, forte sul primo palo e arriva Manuel Polizzi e fa 1-0. E gli ha purgati proprio lui, il Poliziotto. E dice Baci, e dice Baci, emoji del bacio. 1-0, Masella, d'esterno, vengo toccato dal Maseo e mi piace, Masella allarga il pallone per Spera. È bello, però. Troppo Arlen Globetrotters, questi Redlock. Globetrotters. Globetrotters. Vito alla Vopa in avanti per Filippi. È stanche. Filippi occhio al suo mancino. Mamma mia. Ma cosa ha preso? Non bisogna mai lasciarli un metro. È stanche Filippi. È ricoloso da ogni situazione. Devo dire, Lufaso è fortissimo, ma il tiro gli manca. Pallone per il Fiche che lo aggancia alla perfezione all'arciere. Allora? D'esterno. Poi ancora Lufaso. Lufaso, Citte, la lascia lì per il Fiche. Ma no! E poi... L'El Citte! Basta! Basta! Aboliamo le traverse. E mi sono loro tipo Gioni. E mi sono loro tipo Gioni. Ma questa è un'azione che non ha senso. Che bella! Ma tripla traversa, ragazzi. Ma che cazzo, ragazzi. La voglio rivedere. Sì, ma guardate qua. La palla di Citte è la palla di uno che vede calcio. Mamma mia. Guarda qua. Il Fiche non era Ibiza. Carta per gli Eternals. Turnover forzato. Va bene. Fiche Massella. Lufaso. Eh, va bene. Inquadrato Marra. Inquadrato la panchina degli Eternals. Citte va sull'auto di destra. Poi è servito... Buscetta. Buscetta che mette in mezzo. Va bene, teniamola. Ancora Buscetta che ritorna. Mamma mia, ragazzi. In qualche bravo. Sergente. Fallu. Tanto caos. Fallu ne esce vincitore. Poi tiro centrale da parte di Davide Meharini. Ragazzi. Sì. Vito Lavopa. Vito Lavopa. Vito Lavopa. Vito Lavopa. Vito Lavopa. Vito Lavopa. Se ne va. Mamma mia. Ti ispira a dirlo più volte. Ma carta, ragazzi, per il Redlock. Attenzione. Che è? Euro goal. È più bello. Effettivamente. Cioè, è uguale. Attenzione Redlock, però. Ballone ancora per Masella. Si è proposto. È il fiche della parte apposta. Mamma mia. Grazie, che portiere. Mamma mia. Gran parata. Mamma mia. Mamma mia. Il Sergente di nuovo allarga per Filippi. Sempre in posizione defilata. Ancora il Sergente. Mamma mia, il Sergente. Non si è accorto di Amos Dani. E perde il tempo. Il Sergente Milinkovic. Federico. Fatti vedere Amos. Vito Lavopa. 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 Cosa si era fatto? Vito Lavopa. Cosa aveva dipinto. Ed è... DRAA. Ragazzi. Cosa vuol dire? Hai richiesta? Con Pulizzi. L'autore del gol dell'1 a 0, Pulizzi. Sugli sviluppi di un corner. Va bene. Bazzucchi. Poco fa tirato. Vediamo se ci riprova. Ancora Bazzucchi. Grande palla per Michelin! Il Cyborg! Il Cyborg! Il Cyborg! Il Cyborg! Fatto il 1! Non ci credo! Parlate! Parlate! Che il Cyborg segna! Parlate! Parlate! Primo gol del Cyborg, credo. Primo gol del Cyborg. Sono contentissimo. Ma... Instakeeper. Allarga il pallone per Gimignani. Questo piccolo vizio di fare lo scavetto sui passaggi. Ancora Instakeeper. Prova a imitare Bazzucchi. E lo fa benissimo! Bazzucchi! Ed è qui! Fazzu! Il Diavante! Il Diavante! Il Diavante! De Mangiaro! Eccolo lì. Primo gol! 2 a 2! Primo gol! Anche per lui! In questa draft mode per i Redlock che possono avere l'ultima chance per mettere il Nasino davanti e iniziare il secondo tempo in vantaggio. Spera! Bloccato! Spera! Spera! Subentra che fallù! Dai 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 dai! La porta è vuota! 3! Tira di me! Non c'è più tempo! Non c'è più tempo! Finisce così! Finisce 2 a 2! Peccato! Bello! C'è la protesta dei Redlock! Che cosa fighe! Praticamente è uscito con le mani fuori dall'area di rigore il portiere, quindi per me è successo prima del tempo, io posso chiamare il VAR! Anche io l'ho visto, me l'ha sembrato! Vabbè, è fuori! E la palla viene portata dal portiere fuori dall'area, quindi fallo è al limite! Olè! E ci siamo! 4 secondi! Vediamo Spera! Attenzione! Piano piano! A destra! Buono buono! Alla sua destra c'è Geminiani, vediamo se tira! Tira in porta direttamente! E fa benissimo! Perché la mette sotto la traversa! Imparabile da lì! Che golasso di Mattia Spera! Che sta per cominciare! Si comincia ora! Con il primo possesso per... Bravo Citerio! Il capitano! Il capitano! Matteo Citerio! Mamma mia! Il capitano Citerio! Mamma mia! Cos'è? Piangi! Piangi! Madonna! Lacrinea! Un gol pazzesco! Ema! Oh! Devono tenere la testa e stare calmi perché c'è... Attenzione! Vito la Vopa! Vito la Vopa! Vito la Vopa! Vito la Vopa! Bravo! Flipper! Poi ancora il sergente dal limite! Arbitro! Toccato da Lofaso! Spalla contro spalla! Spalla contro spalla! Dai! No! Magari passa nella lunetta di centrocampo per poi rientrare all'incrocio! Sì no! Con il respiro di Achilia tutto è possibile! Filippi è uno schema! Mamma mia! Il pallone... Cosa vuol dire? Gestito da Lofaso! È un giovane... L'1-2 lo riceve! Lofaso va a 2.000 all'ora! Lofaso! Lofaso! Mamma mia! Eccolo qua! Il pupillo! Lofaso! Benvenuto in Godric! Direttamente dalle carriere! Aia! Ok ma... Ben vecchio! Mamma mia! Così mica tanto che comunque essere... Il bridge! Mamma mia! Non è l'arciere! Si era acceso! Poi Filippi! Si era infiammato! André! Filippi se ne va! Filippi con la suola! Pallone dentro per Vito Lavopa! Vito Lavopa! Che parata! Che parata! Che parata! Che parata! Che parata! Cosa ha preso in sta keeper! Carta per i Redlock! Giocano... Cambio del God Keeper! Aiaiaiai! Importa chi ci va! Vito Lavopa! Pallone per Bazzucchi! Sulla tre quattro... No scusate! Filippi! 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 Finalmente! Non ho bisogno di un gol per l'emotività! Quattordicesimo intanto è scoccato Elfiche! Elfiche! Che scoccata clamorosa! Che scoccata clamorosa! Che scoccata clamorosa! Elfiche! Mamma mia! Why always money! Ed eccoci qui! Sono tornati! Ma torna Ibiza! No, è vero, è tornato Elfiche! Vediamo! Aaaaah! Due controllo! Due controllo! Ma pensavo a 2.000 aspetti in più! È entrato Vito Lavopa! Ecco perché ha tenuto il pallone! Vito Lavopa! Vito Lavopa! Vito Lavopa! Filippi! Bravo! 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 Non si passa! Ragazzi! Ragazzi! Questo è una… Attenzione Vito Lavopa! Vito Lavopa! Prendi il pallone Vito! Dove l'ha messa? Un altro piede, ragazzi! È questo! Dove l'ha messa, ragazzi! Dove l'ha messa? Eh… Una conferma che rimane conferma, Vito Lavopa! Sì, dai! Ancora Elfiche! Elfiche e Lofaso! Bello! Scherzano con Filippi! Lofaso! Altro sombrero! 40 secondi! Che coppia! Che coppia! Che coppia! Elfiche! Che coppia! Leone Messi! Sette a tre! I Redlock! Mettono il punto esclamativo su questa vittoria! È la seconda squadra già qualificata! Esatto! Ma ora capiremo se da prima o da seconda, insieme agli shout-out, che si vedranno tra pochissimo! Adesso vincono i Redlock Eternals! Rimangono ultimi! Vanno ai play-off contro la quarta del girone opposto! E Edo, Masseo, ti rivedremo a brevissimo perché vi confronterete contro la Furia Roja! È appena terminata la partita, ragazzi! Quale? Boh! E se siete arrivati a questo punto, ragazzi, iscrivetevi e mettete like, attivate la campanellina e scrivete nei commenti chi ha meritato di più! Cioè, come giocatore?